Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati su Sanchenmoney. Come sempre mi raccomando, prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi e ad attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che andrò a caricare nel canale. Oggi andremo a vedere questo airdrop di questa nuova cripto, Izerium, che alla fine ci darà 500 Izer dal valore di circa 50 dollari. Questa cripto è già presente su CoinMarketCap, eccola qui. Quindi attualmente questo è il suo valore ed oggi, il giorno in cui sto producendo il video, ha anche avuto un bel rialzo. È scambiabile su questo exchange, su un Vindax, il Bitcoin. Eccolo qui, sono su un Vindax ed è presente la coppia Izer-Bitcoin. Questo tra l'altro è anche il sito del progetto. Per portare avanti questo airdrop è necessario fare il solito bot Telegram che adesso andremo a vedere insieme. Appena avviato il bot ci vengono riportate le stesse notizie che vi ho appena detto, ossia che questa cripto è presente su CoinMarketCap ed è scambiabile sull'exchange di Vindax. Quindi proseguendo ci viene chiesto di inserire questo semplicissimo captcha che adesso inseriremo per andare avanti. Andiamo quindi a iscriverci sul loro gruppo e sul loro canale Telegram. Proseguendo andiamo a iscriverci sulla loro pagina Twitter e a rituitare il loro messaggio, cliccando sulla voce Click to retweet and follow. Dopo inseriremo la nostra username di Twitter e andremo avanti. Cliccando sul link che ci viene proposto veniamo rimandati a questa pagina Twitter, quindi andiamo a rituitare questo post lasciando un piccolo commento in inglese. Quindi clicchiamo su questa icona, facciamo retweet più il commento e io ci scrivo Very good e quindi retweetto. E poi andiamo a seguire anche la loro pagina Twitter, cliccando sulla voce Segui. Inseriamo quindi la nostra username Twitter e andiamo avanti. Adesso inseriamo i wallet IRC20 dove vogliamo ricevere i token. Mi raccomando un IRC20 puro, se mai preso da MyEtherWallet o da Metamask, io inserisco lo stesso di Origin che va assolutamente bene. Mi raccomando, i wallet degli exchange non inseriterli perché non vanno bene. E quindi andiamo avanti col bot. Perfetto, abbiamo fatto tutto in modo corretto e abbiamo ricevuto i nostri 500 IRC20. Poi ognuno di voi avrà il proprio REF link che potrà condividere e per ogni persona invitata avrà ulteriori 100 IRC20. Tutti i token guadagnati saranno distribuiti a partire dal 10 settembre. Cliccando sulla voce Balance possiamo ritrovare tutte le informazioni relative al nostro REF link e ai token accumulati. Come potete vedere in questo momento io ho i miei 500 IRC20 guadagnati perché ho portato a termine l'iscrizione al bot. Questo è tutto, quindi vi ringrazio per la visualizzazione e mi raccomando vi rinvito ad iscrivervi al canale, a lasciare un like ai video che vi piacciono, campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che andrò a caricare. Io sono Stefano, vi auguro buoni guadagni a tutti, ciao e al prossimo appuntamento.